Benvenuti in questo nuovo video del nostro canale dedicato a Dio e alla religione cristiana. Oggi vi racconteremo una storia incredibile e commovente sui miracoli di San Gerardo, il protettore delle donne incinte e dei bambini. Prima però, ti chiediamo solo una gentilezza, iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare i nostri messaggi di fede. Se ti va, puoi anche condividerlo su WhatsApp o su Facebook. Te ne saremo grati. San Gerardo è stato un monaco redentorista del XVIII secolo, famoso per la sua santità e per i suoi doni soprannaturali, tra cui la bilocazione, la profezia, la lettura dei cuori e la guarigione. Ma forse il suo miracolo più noto è quello che ha salvato la vita di una donna in gravidanza e del suo bambino. La storia che vi stiamo per raccontare è avvenuta nel 1754, quando San Gerardo si trovava a Muro Lucano, un piccolo paese della Basilicata. Qui viveva una giovane coppia di sposi, Antonio e Maria, che aspettavano con ansia il loro primo figlio. Tuttavia, la gravidanza di Maria era molto difficile e rischiosa, e i medici le avevano detto che non c'erano speranze di portare a termine il parto senza mettere in pericolo la sua vita e quella del bambino. Maria era disperata e pregava ogni giorno Dio di aiutarla a superare questa prova. Un giorno, mentre si recava in chiesa, incontrò San Gerardo, che era venuto a predicare una missione popolare. Il santo le si avvicinò con un sorriso dolce e le disse, figlia mia, non temere, Dio ti ama e ti protegge. Ti darà un bel figlio sano e forte, che sarà una benedizione per te e per il tuo marito. Affidati alla sua volontà e alla sua misericordia. Maria rimase stupita dalle parole di San Gerardo, che sembrava conoscere il suo segreto più intimo. Si sentì riempire di speranza e di fiducia, e lo ringraziò con tutto il cuore. Il santo le consegnò un piccolo fazzoletto rosso, dicendole, tieni questo fazzoletto con te, è un segno della mia preghiera per te e del mio affetto. Ti aiuterà nei momenti difficili. Maria prese il fazzoletto con gratitudine e lo conservò gelosamente nella sua camera da letto. Da quel giorno, la sua salute migliorò sensibilmente, e la gravidanza proseguì senza complicazioni. Maria sentiva che San Gerardo era vicino a lei e la sosteneva con la sua intercessione. Finalmente arrivò il giorno del parto, ma fu un momento drammatico. Maria entrò in travaglio con forti dolori e contrazioni, che durarono per ore senza alcun progresso. I medici erano preoccupati e temevano il peggio. Antonio era angosciato e pregava con fervore Dio di salvare la sua amata moglie e il suo bambino. In quel momento critico, Maria si ricordò del fazzoletto rosso che le aveva dato San Gerardo. Lo prese tra le mani e lo strinse al petto, invocando l'aiuto del santo. Improvvisamente, sentì una voce dolce e rassicurante nel suo orecchio, coraggio, figlia mia, tutto andrà bene. Sono qui con te. Era la voce di San Gerardo. Maria aprì gli occhi e vide accanto al suo letto il volto sorridente del santo, che le teneva la mano. Si sentì pervadere da una pace profonda e da una forza nuova. Poco dopo, diede alla luce un bellissimo bambino maschio, sano e vigoroso. I medici rimasero sbalorditi dal miracolo, che non riuscivano a spiegare scientificamente. Antonio entrò nella stanza e vide sua moglie felice con il loro figlio tra le braccia. Ringraziò Dio con lacrime di gioia e abbracciò San Gerardo, che lo benedisse. Il santo poi si congedò, dicendo, siate sempre grati a Dio per il dono della vita e dell'amore. Educate il vostro figlio nella fede e nella carità. Io pregherò sempre per voi dal cielo. Maria e Antonio chiamarono il loro bambino Gerardo, in onore del santo che li aveva salvati. La notizia del miracolo si diffuse in tutto il paese e attirò molti fedeli e pellegrini, che volevano vedere e toccare il fazzoletto rosso, che era diventato una reliquia. Da allora, San Gerardo è venerato come il protettore delle donne incinte e dei bambini, e molti altri miracoli sono stati attribuiti alla sua intercessione. Questa è la storia che volevamo condividere con voi oggi, sperando che vi abbia toccato il cuore e rafforzato la vostra fede. San Gerardo è un esempio di santità e di amore per Dio e per il prossimo, che possiamo imitare nella nostra vita quotidiana. Se anche voi avete bisogno del suo aiuto o della sua consolazione, non esitate a invocarlo con fiducia e devozione. Lui vi ascolterà e vi soccorrerà. Inoltre, tra i miracoli di San Gerardo, i più noti sono Il miracolo del fazzoletto. San Gerardo donò un fazzoletto rosso a una donna in gravidanza che rischiava di perdere il bambino. Grazie al fazzoletto, la donna riuscì a partorire un figlio sano e forte. Da allora, il fazzoletto rosso è diventato un simbolo della protezione di San Gerardo sulle gestanti e sui neonati. Il miracolo del mare. San Gerardo salvò alcuni marinai in pericolo di naufragio sul mare di Napoli. Apparve loro sulle onde e li guidò verso la riva con una luce. I testimoni rimasero stupefatti e riconobbero il santo. Il miracolo della bilocazione, San Gerardo fu capace di essere presente in due luoghi diversi allo stesso tempo. Una volta, mentre era in preghiera nel convento di Caposele, apparve anche nella chiesa di Mater Domini, dove celebrò la messa e distribuì la comunione. Concludiamo ora con una breve preghiera. O San Gerardo, amico di Dio e dei poveri, tu che hai vissuto nella semplicità e nell'umiltà, tu che hai operato tanti miracoli per il bene dei tuoi fratelli, tu che sei il protettore delle donne incinte e dei bambini, ascolta la nostra supplica. Ti affidiamo le nostre famiglie, le nostre madri, i nostri figli, i nostri nascituri. Veglia su di loro con la tua intercessione presso il Signore. Dona loro salute, pace, amore, fede. Allontana da loro ogni male, ogni pericolo, ogni tentazione. Ti chiediamo anche di aiutarci a seguire il tuo esempio di santità e di carità. Ispira i nostri cuori a essere generosi, obbedienti, devoti. Insegnaci a pregare con fiducia e a servire con gioia. Sostienici nelle prove e nelle difficoltà. Consolaci nelle sofferenze e nelle angosce. O San Gerardo, amico di Dio e dei poveri, intercedi per noi e per tutti coloro che invocano il tuo nome. Ottienici la grazia che ti chiediamo, si esprime la grazia. E soprattutto, conduci le nostre anime alla gloria del cielo. Amen. Grazie per aver seguito questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al nostro canale per non perdere i prossimi episodi. Vi salutiamo con la benedizione di Dio e di San Gerardo. A presto.